Ciao e benvenuto nel canale YouTube di Abitare Domus. Mi presento, sono Villa Aldo, fondatore di Abitare Domus e agente immobiliare professionista da più di 20 anni. In questo canale troverai video di vario genere, a partire da quelli di presentazione degli immobili che abbiamo in vendita, passando a quelli che spiegano il nostro metodo delle 5W, fino ad arrivare a delle pillole informative che ti consentiranno di vendere o comprare casa in tutta serenità. Quindi il consiglio che ti do è di iscriverti al nostro canale tramite il tasto iscriviti che trovi qui sotto e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato. Ciao!